Ciao ragazze, allora, volevo già da un po' riprovare con la resina, però ad oggi stampini non ne ho molti a disposizione, cioè questi morbidi in gomma siliconica, in silicone o con questo materiale qua, quindi morbido, ne ho veramente pochi e infatti ho questi che vedete perché ho fatto l'ordine per quelli nuovi, quando arriveranno ve li mostrerò in un video. Ho poi degli altri stampini in contenitore di plastica, però sono le forme base, ad ogni modo ho deciso di provare di nuovo con la resina, aspettavo di comprare della resina nuova perché io a casa avevo una confezione della Prochima, non so bene come si pronuncia, la E30 effetto acqua, però ce l'ho praticamente da quando ho iniziato a fare con la resina, quindi sono almeno 5 anni più o meno, fai 4-5 anni così, e quindi non so bene come saranno i risultati, ho deciso di provare con quella e ho fatto dei ciondoli. Allora, i ciondoli che ho fatto all'inizio non ve li posso ancora far vedere perché praticamente sto aspettando per fare l'ultima colata di base. E quindi intanto vi mostro questi che li ho realizzati, questi qua arcobalenosi, li ho realizzati con il resto della resina che mi è rimasta dalla seconda colata sui ciondoli. Questi invece ho provato a colorare la resina in tre modi diversi. Ho provato a colorarla solo con i colori acrilici, con il gessetto da disegno e mischiando il colore acrilico e il gessetto da disegno. Volevo vedere come rimaneva perché appunto l'ultimo strato che ho da fare sui ciondoli nuovi sarà quello colorato, ma non ho i colori per la resina. Allora, partiamo da questi che tanto non hanno disegno quant'altro, sono proprio solo così ed era proprio solo per vedere come rimaneva. Allora, questo è il mix di colore acrilico e gessetto. Direi che rimane molto coprente, quindi mi piace, devo solo lavorarlo meglio per non fare tutte le bollicine che vedete, con un po' più di delicatezza. Quindi anche questo qua. Allora, adesso questi in realtà li ho fatti da poche ore, quindi sono ancora morbidi. Anche il ringo, questo ad esempio è più, questo è già più duro, però sono ancora un po' morbidi. Adesso devo vedere se dipende dalla resina che ho o perché devono ancora finire di catalizzarsi, insomma. Allora, questo invece è fatto solo con il gessetto. Non male, anche lui rimane forse leggermente più in trasparenza, vedete. Però non è malvagio neanche solo con il gessetto. Vediamo questo qua. Vabbè, adesso lo stampino è spastico, però era proprio solo per vedere. Anche questo è ancora morbido. Ripeto, sono morbidi, quindi non ho idea se è un problema di resina o no. Il quantitativo l'ho messo giusto, anzi ho aggiunto un pochino più del catalizzatore, così mi si indurivano prima. Però comunque il suo lavoro lo fa, non si rovina. Vediamo questo che è fatto solo con il colore acrilico. Anche questo è morbido, non facciamo sempre a casa lo stampino perché comunque rimane opaco. direi che è buono anche questo come colorazione. Questo è un casino. È un salatino. Infatti è opaco perché dovrebbe essere un salatito. Salatito! Un salatino. Bloopers in diretta. No, vabbè, allora, reali differenze... Sì, questo forse rimane... Aspetta, proviamo a girarli solo al contrario perché poi in realtà lì si vede questo. Prendiamo questo, magari. Vabbè, allora, quello mix effettivamente rimane più intenso perché sono mischiati questi due. Questo è più in trasparenza, questo è più normale. Questo colore... Questo sembra veramente quello del ringo adesso. Sì, non male. Adesso ci ragiono quale delle tre tecniche usare per finire i ciondoli. Allora, vediamo un po' qua. Di questo avevo già fatto quello tutto viola. Però, vedete, questo è duro, quindi devo capire se poi magari sono anche morbidi perché hanno queste cose aggiuntive. Allora, vediamo questo qua, com'è rimasto. Allora, in profondità... Allora, in alto si vede bene perché gli ho aggiunto anche il glitter sopra. Adesso poi lo devo rifinire tutto. Davanti non è proprio bellissimo come colore. Perché questo l'ho fatto mischiando direttamente i glitter nella resina. Quindi non li ho sparsi sopra dopo, ma li ho mischiati insieme. Ed è rimasto così. Mi piace molto di più sotto. Poi comunque rimane opaco, ma io ci passo poi uno strato di resina leggero sopra. Che si sa che mettendoci la resina sopra si... si colora, ritorna lucido. Allora, vediamo. Questo l'ho fatto in due strati perché avevo fatto la prima parte viola come questo qua e poi finendo gli altri colori gli ho messo il secondo strato. Allora, questo è rimasto così. Quindi ha il viola di base, che è questo che non so se riesco a farvi vedere bene il colore. E questo violetto qua. E poi sotto c'è l'arcobaleno. Ci sono i mix. Vedete com'è? Così. Sì, ma era tanto per provare questo, quindi non è che mi serva più di tanto. Poi vediamo questo qua. Questi rimangono tutti opachi, ma appunto basta ripassarci un filino di resina sopra. Bello liscio. Un filino di resina sopra e si risolve tutto. Mi piace appunto come rimane il lucido sotto. In tutti questi ho rimesso un po' di glitter qua perché poi magari vedendo l'intrasparenza che si vedessero bene i glitter. Quindi sotto rimane così. Facciamo prima questo. Se io ho fo' Eccolo qua. Anche qua, vedete? Rimasto così, ha tre spicchi arancione, giallo e verde. Carino. Mi piace, può essere usato per fare la base di cupcake. Sembrano veramente però le caramelline con le gommose. Bello. Altro cuoricino. Allora, vediamo un po'. Ah, è carino. Ovviamente nel momento in cui lo si lucida di più, ha poi questo effetto e rimane molto più carino. Però, adesso lo farò. Provo prima a mettergli del lucido. Vedere se solo con il lucido mi piace come rimane. Se no, gli faccio la leggera spennellata di resina. Guardate. Questo rimane così. In ultimo, ho provato a fare questa conchigliona. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Allora, il sopra è così. Qui si è un po' rovinata. Eh beh, si, l'ho anche sgrattugiato io adesso. Allora, sotto ha questa forma qua, cioè liscia, lucida. E sopra è così. Devo vedere anche questa, lucidandola, come rimane. Che effetto ha poi se vengono fuori tutti i glitter, se si notano. Adesso non lo so. Ecco fatto. Quindi, avviciniamo la telecamera. Posso dire che tra questi, meno male, aiuto, le tecniche vanno bene tutte. Sono abbastanza tutte coprenti. Adesso vedrò se fare il mix. Così, se voglio fare i colori, uso di base il bianco. E poi vado ad aggiungere i gessetti colorati. Questo anche rimangono meglio sotto, che rimane solo glitterato così. Quindi può darsi che, anche se mi è più comodo fare il mix direttamente con la resina, può darsi che il risultato migliore sia aspettare qualche ora che la resina si indurisca leggermente e poi, in realtà, colarci direttamente i glitter sopra. Però, se già vedete qua, ad esempio, invece, è rimasto comunque, è rimasto meglio anche questo. Quindi devo un po' vedere adesso come rimarranno quando gli vado a mettere la resina o il lucido sopra. Allora, queste sono alcune delle creazioni in resina che ho fatto con gli scarti della resina che avevo avanzata e le prove per vedere le colorazioni. Nel prossimo video scopriremo insieme, invece, i reali ciondoli che, vi dico già, ho già capito che ci sono stati degli imprevisti nel ciondolo ma ve ne parlo poi quando andiamo a vederli. Allora, noi ci vediamo poi col prossimo video non vi so dire se lo caricherò domani o tra due giorni voi comunque continuate a seguirmi anche su Instagram che vi lascio sempre aggiornati su appunto quando verranno caricati i video e con che tema verranno caricati. E niente, allora adesso io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!